Silvia Rosa Brusin. Due anni fa il primo clamoroso successo italiano. Il team guidato da Roberto Rosei trova un enorme lago sepolto sotto il polo sud di Marte usando il radar dell'Agenzia Spaziale Italiana Marsis a bordo della sonda europea Mars Express. Oggi quella scoperta è confermata da un altro gruppo italiano e non solo. A quel lago se ne aggiunge uno grande di un diametro di almeno 30 chilometri e tre più piccoli. I laghi sembrano essere tutti alla stessa profondità, di circa un chilometro e mezzo. Quindi vuol dire che i laghi hanno sopra la superficie dell'acqua un chilometro e mezzo circa di ghiaccio. Noi abbiamo ipotizzato che siano salati e la motivazione è che la temperatura alla base del ghiaccio è abbastanza bassa perché sulla superficie di Marte viaggiamo intorno a meno 110. Il che vuol dire che per quanto possa salire un po' la temperatura con la profondità pensiamo che la temperatura rimanga dell'ordine di meno 90, meno 80. E quindi in queste condizioni l'unica maniera per avere dell'acqua liquida è quella che sia salina, che abbia un'elevata concentrazione di sali. A dire che c'è acqua marziana profonda sono i dati del radar Marsis che lavora con una frequenza tra 1,8 MHz e 5 MHz. Il segnale a riflesso molto forte viene interpretato. La tecnica è la stessa utilizzata per trovare i laghi subglaciali in Antartide. Ma come è finita quell'acqua lì? Che cosa sia successo non è facile dirlo, però cominciamo a orientarci nella direzione che quella è un'acqua residua, cioè che è un'acqua che era in superficie e magari molto più estesa ma che è rimasta intrappolata quando Marte ha cambiato il suo clima. Quindi in qualche maniera piano piano è il residuo di aree molto più estese in cui l'acqua liquida esisteva in condizioni climatiche molto diverse da adesso e piano piano è stata sepolta, è rimasta intrappolata sotto i ghiacci. Adesso la ricerca continua ancora al Polo Sud, studiando anche il comportamento dei sali perclorati in quei laghi. Un ambiente lagunare che non sia troppo salato è sicuramente molto favorevole allo sviluppo della vita. È chiaro che se quei laghi sono laghi pregressi, cioè sono una rimanenza dell'acqua che era estesamente presente alla superficie di Marte, ovviamente è un ambiente ideale per lo sviluppo della vita, lo era e quindi ci potrebbe essere la possibilità che la vita sia rimasta in questi laghi sotterranei un po' come avviene in Antartide.